Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, andiamo ad aprire insieme il numero 91 del castello di Hogwarts che ci fa arrivare l'altro pezzetto speculare della torre che dovevamo completare. Ci sono anche le finestrelle che mancavano, quindi a livello del tetto diciamo più o meno abbiamo finito. Manca qualche pezzo per completare questa torre e spero che arriveranno nel prossimo numero. Allora, apriamo, ecco qua, apriamo questo fascicolo. Allora, guardate da vicino, questo è il pezzo, la torretta, la mezza torretta e le finestrelle. Mentre per quanto riguarda, vediamo la fine subito, sì, nel prossimo numero, tra una settimana, iniziano a darci i vari tetti che mancano, per cui direi che più o meno stanno andando in ordine. Non capisco perché la settimana scorsa ci hanno dato un pezzo dell'altra torre invece di continuare su questa, ma in generale chi se ne frega, tanto comunque porteremo a termine l'intera opera, per cui andiamo a leggerci da vicino questo fascicolo e poi passiamo al montaggio. Allora, questo numero 91 è dedicato, andiamo a vedere, ad Arthur Weasley, che è il padre di Ron, Percy, Bill, Charlie, Fred, George e Ginny. Si è dato parecchio da fare. Mi sembra che ci fosse già stato un numero dedicato a lui, ma in generale evidentemente ci danno informazioni diverse. Dovrei andare nei numeri precedenti a verificare cosa già era stato detto, ma onestamente mi importa poco. Mentre per quanto riguarda il montaggio, allora il pezzo che riceviamo qui serve per completare questa parte e le finestre ovviamente vanno in questi quattro punti qua. Noi avevamo già appoggiato la finestra sul resto della torre, ora andremo a vedere se è possibile montare l'altra parte senza togliere quella che avevamo già messo, oppure se ci riusciamo già così. Ad ogni modo il risultato completo di questo step dovrebbe essere così. Mentre tra una settimana ci daranno un patronus, poi ci daranno questo tetto grande che dovrebbe andare sulla torre, sulla parte principale e due comignolini. Poi in mezzo c'è questa sezione qui che non ho capito se utilizzeremo in questa torre oppure no. Allora apriamo questa busta, recuperiamo i pezzi, prendiamo queste cose qui. Allora iniziamo con le finestrelle che sicuramente diciamo si mettono più facilmente, quindi le prendiamo, andiamo a girare qui cercando il punto in cui vanno. Ok allora prendo la prima, la vado a mettere qua. Queste diciamo entrano sempre piuttosto bene, non c'è mai bisogno di colla. Vediamo se questa qui si riesce a mettere oppure se bisogna togliere la torretta. no, si riesce. Anche se forse un minimo di... no. Vediamo se ci riesco. Sì, più o meno è entrata. Ok. Proseguiamo con la seconda, anzi in realtà è la terza perché la seconda l'abbiamo già messa. Questa è la terza e andiamo a mettere l'ultima finestra, ovvero la numero 4 nella sua posizione. Allora guardate che belle tutte quante. Non serve colla, vedete che sono entrate senza problemi tutte quante. Sì, diciamo che rimane un minimo di spazio qui, però è anche vero che diciamo non è importante, diciamo, è comunque molto funzionale. Mentre per quanto riguarda questa parte qui, si riesce a mettere tranquillamente, come avete visto, senza nessun tipo di problema anche con quest'altra parte già montata. Quindi teoricamente noi dovremmo ricevere questo tetto qua, diciamo che copre questa parte e poi non ho capito dove vanno gli altri pezzi, ma insomma lo vedremo nel prossimo video perché sicuramente ci sono due comignolini che a quanto pare non sono questi perché dalle foto non mi corrispondono. Non vanno qui, diciamo, in queste parti e poi c'è quella sezione centrale che va messa all'interno dei tetti. Quindi è possibile, perché dalla foto non lo capisco, è possibile che questo pezzo sia solo metà e poi ce ne sia un'altra metà dietro, quindi questo o addirittura una terza parte. Quindi questo pezzo qui potrà servire forse per tenere unite le parti. Ma vabbè, lo scopriremo la settimana prossima. Ok, quindi recuperiamo il tutto, andiamo alla dispezionare da vicino e devo dire che ormai che questa sezione è stata completata, perché insomma mancano solo i tetti, ma oggettivamente è finita, è diventata qualcosa di veramente molto bello. Io credo che a livello di dettagli sia la più completa che abbiamo fatto finora ed è decisamente più bella anche della grande torre. Guardate, veramente molto bella. Poi vabbè, qui c'è lo sportello che si apre, ve lo ricordo, con il giroscopio all'interno, quindi un ulteriore valore aggiunto ed è veramente, ma veramente molto bella. Guardatela intera, vado andando indietro parecchio perché è molto alta. Vedete che più o meno è come me il mio mezzo busto, diciamo, quindi sicuramente è molto ingombrante. Questo l'abbiamo già detto. Abbiamo già detto che dovrò smontarla, probabilmente, anzi, senza probabilmente, perché come vedete non ho idea di dove metterla e giustamente non posso riempire casa di giocattoli, quindi una volta finito, boh, mi inventerò qualcosa, magari la rismonto, ovviamente dividendo per ogni sezione in modo tale da poterla rimontare in un futuro prossimo, insomma, senza problemi. sarebbe interessante capire anche come unire tutti i vari fascicoli, perché appunto saranno 120, magari rilegandoli in almeno due volumi, perché non è che si può fare uno gigante, oppure dividerli per sezioni, quindi la cattedrale, la grande torre, la torre di astronomia e poi quella dell'orologio quando la faremo. Quello poi magari è una cosa che possiamo vedere più avanti se ne vale la pena, perché non credo che ci siano dei raccoglitori, quindi sicuramente in qualche modo dobbiamo raggrupparli, altrimenti si tende poi a perderli. Detto ciò, a questo punto vi chiedo il solito pollice in su se vi è piaciuto il video e vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, così da non perdere nessuna delle prossime cose che arriveranno sul canale. Ora vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!